La battaglia contro il coronavirus non è ancora vinta, ma la luce si vede ormai ed è il momento di pensare al rilancio in grande stile della sanità pubblica del Veneto. Un piano nel quale Rovigo e il Polesine non reciteranno un ruolo marginale, tutt'altro. Rovigo non è la cenerentola del Veneto e proprio qui ci saranno investimenti molto importanti, ha infatti ribadito il presidente della regione Luca Zaia, a Rovigo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia per inaugurare due importanti dispositivi che sanciscono appunto l'avvio di questo percorso di rinascita, rinnovamento, implementazione delle dotazioni e delle risorse della sanità pubblica. L'acceleratore lineare per il reparto di radiologia e sala operatoria ibrida, strutture all'avanguardia e a loro volta un'avanguardia di quanto arriverà nel prossimo futuro. L'acceleratore è un dispositivo avanzatissimo per la lotta ai tumori tramite radioterapia, associata o meno ad altri trattamenti come quello chemoterapico e quello chirurgico. Il dispositivo produce raggi concentrati con precisione assoluta e ha sensori in grado di settarsi sulle oscillazioni prodotte da respiro mantenendo agganciato il proprio obiettivo. La sala ibrida invece è una sala per la chirurgia vascolare che associa a un letto operatorio mobile un angiografo di ultima generazione, permettendo quindi di operare in modo microinvasivo con la massima precisione. Una mattinata in Polesine per il Governatore, al fianco del Direttore Generale dell'US5 Polesana, Patrizia Simonato, alla quale spetta il ruolo chiave di chiudere la pagina Covid e avviare quella del rilancio, che passerà attraverso miglioramenti e ammodernamenti degli ospedali, ma anche attraverso un massiccio piano di assunzioni. Una prospettiva alla quale si può guardare con fiducia e serenità, alla luce dei numeri delle vaccinazioni, che paiono ormai non lontani dal raggiungimento della auspicata immunità di gregge, come spiegato dal Governatore nel punto stampa all'auditorium dell'ospedale. Si diceva, Rovigo è dimenticata, Rovigo non funziona, siamo la periferia dell'impero, ma vi assicuro che se vedeste la lista degli investimenti che stiamo facendo, vi rendereste conto di come il Polesine sia nettamente sopra la media di quanto stiamo facendo in giro per il Veneto. Presenti anche gli assessori regionali Emanuele Lanzarin e Cristiano Corazzari e le due consiglieri regionali del Polesine, Laura Cestari e Simona Bisaglia. Il tutto attendendo una data fondamentale, quella di giovedì, quando verrà presentato il piano di sanità pubblica. È un passaggio fondamentale, ha proseguito Zaia, perché la sanità in Veneto è qualcosa di grande. Parliamo di 68 ospedali, eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno, accogliamo 2 milioni di persone all'anno nei pronto soccorsi, con 54.000 dipendenti e 3.500 medici di base. I due interventi di oggi in Polesine valgono oltre 5 milioni, ne investiremo oltre 87 in arrivo. Non promesse, ma opere che sono già in corso, con una visione della sanità che deve portare al futuro. Il Covid ha accelerato questo processo, ha detto il Presidente della Regione. Il Covid ci ha indirizzato verso un approccio alla sanità che sarà diverso. Non possiamo pensare a una sanità senza medici, senza infermieri, senza osse e senza personale, ma cambieranno profondamente gli strumenti, perché la evoluzione delle nuove tecnologie è costante e ha ricevuto un nuovo impulso. L'orientamento della sanità veneta sarà quello di ridurre i tempi di ospedalizzazione. Può apparire un controsenso, ha detto il Presidente della Regione. In tanti pensano ancora che un ospedale possente sia un ospedale con tanti posti letto, mentre un ospedale del futuro è un ospedale senza letto, ma con cure estremamente performanti. Un passaggio sui vaccini poi. Abbiamo vaccinato il 97% di chi ha più di 80 anni, il 90,7% di chi ha oltre 70 anni, l'84% di chi ha oltre 60 anni. Vi ricordo che l'immunità di gregge è tra il 65 e il 70%, il 71,4% di chi ha oltre 50 anni. Da ieri, chi ha oltre 60 anni può presentarsi in qualunque centro vaccinale del territorio senza prenotazione e può fare la propria vaccinazione con una dose sola di Johnson & Johnson. Ad oggi sono stati fatti 3 milioni di dosi per un milione di cicli di immunizzazione completati. Abbiamo ragionevoli ragioni di pensare di chiudere questa partita per agosto. Noi oggi siamo la prima grande regione in zona bianca, ha proseguito Zaia. Dopodiché siamo già pronti per la terza dose, per la sovrapposizione delle vaccinazioni anti-influenzale e Covid che faremo in contemporanea. I vaccini rimarranno su base volontaria.